Gareggiare squadra è bello perché le responsabilità si dividono per quattro e quindi un errore mio può essere un errore loro e quindi ogni cosa che si fa è importante per la squadra. Sono stata la prima frazionista oggi e è stata una gara tosta perché c'erano degli avversari ma sono riuscita a fare con la corsa differenza e ho dato secondi importanti di vantaggio e ho dato il cambio a Matteo. Appena mi ha dato il cambio con circa una ventina di secondi, poi dopo a nuoto e bici sono riuscito comunque sia a spingere e a guadagnare altri secondi e ho perso un po' nell'ultima frazione podistica e poi ho dato il cambio a Michela. Ho fatto la mia prima gara di triathlon dopo un po' di tempo quindi sono riuscita comunque a mantenere la prima posizione anche se è stata parecchio dura, infatti sono stata leggermente ripresa ma ho dato il cambio in maniera molto contenta diciamo al mio compagno Valerio. Sono partito ultimo con un grande stacco sugli altri e diciamo che la gara era abbastanza già decisa e quindi siamo molto contenti di questo risultato, dobbiamo ringraziare tutto il team, i nostri genitori, allenatori e tutta la squadra. Siamo anche molto amici al di fuori dello sport e forse è proprio questo che ci unisce moltissimo e che ci fa mettere tutto il cuore per la nostra squadra. Inerba Roma, campioni d'Italia!